Farò un gameplay vendato di Killer Instinct capovolto a 180 gradi Aspetta che devo vedere dove sono le cuffie Dove riprenderò il mio vonto vendato senza guardare capovolto così non avete scuse perché baro Così potete vedere sia lo schermo dove va il gioco che sto giocando Sia me che non riesco a vedere perché sono anche capovolto Quindi scassate poco coglioni Ma ci arriva? Non ci arriva Vaffanculo Non riesco a vedere Vai Ovviamente io non spalare No 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 Ok, 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 ok e questo è stato facile, ripto e di buono Trovata all'inizio delle arcade è debole Speriamo di aver scritto bene Dill del Metal, ma ne dubito Sabre Wolf Via, continuiamo Grazie a tutti Ok, sono a destra Bisogna anche capire in che posizione sei Perché una volta che hai capito in che posizione sei Inizi poi a masciullare Devi anche capire la distanza dall'avversario In base al tempo degli attacchi Anche a rumore Contro Orchid Se fosse un audio surround Invece no, è tutto stereo, non si capisce una sega È tutto uguale da entrambe le muffie Che cazzo ma li scambetti? Ehi, chi lenta è te? Ehi Ah, lo buttate di sotto Vai dai No, ci siamo a ritardo quindi Che mi è venuto a mente Dill del Metal regna per ora Ecco, Cinder è uno dei più difficili Perché salta in continuazione Quindi mi va dietro Devo ancora capire da che parte sto Dello schermo Dello schermo Oh E' finito, mi ha fatto tutta combo Maledetto schifoso Potessi guardare Ti apriva il culo Accidentate E niente, riprovo E' d'altronde Invincible scinder Mamma mia Senti, senti Dio Ora mi giro Questa è una bella osa Eh, mi va più da percorso In vera me Non ci sta Qui scommetto che non va nemmeno Incredibile Ora si vede Chi ride Ramello Perciò Hello How toim Chi Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!